Giorno da Mercato San Severino, siamo con l'assessore Albano e l'assessore Cavaliere. Assessore, una bellissima manifestazione a Mercato San Severino, un evento che speriamo ce ne siano altri. Salve a tutti, un giorno importante per la nostra città di Mercato San Severino e per l'intera Valle dell'Irno. Ringrazio gli amici, gli sponsor e le associazioni che ci hanno aiutato in questa manifestazione. Il Giro della Campania in Rosso è una manifestazione sportiva molto importante, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista sociale, in quanto le donne ne fanno parte importante proprio di questo Giro. Il presupposto è la parte fondamentale del Giro della Campania. Assessore Cavaliere, lei è molto impegnata nel sociale, nelle associazioni, ha fatto molte cose bellissime a Mercato San Severino. Qualcosa su questa manifestazione? Io sono particolarmente contenta perché essendo donna si parla di un giro femminile, quindi forza le donne. Ma in realtà sì, la cosa bella è che un'intera comunità si è mossa per promuovere questo evento, per collaborare per questo evento. E' quello il lavoro per cui mi sto battendo, quello di unire una comunità affinché possa emergere e migliorare. Quindi benvenga la collaborazione e l'aiuto delle associazioni, dei libri cittadini, dei ragazzi, dei giovani, di tutti. Grazie.